Perché investire in una moneta monitorata dal governo? Qual è il senso di usare le criptovalute con una criptografia non sicura? Cos'è successo all'integrità? Solo una moneta in tutto l'universo cripto incarna Letos originale. Solo una moneta continua a codificare una tecnologia immutabile per rafforzarti. Solo una moneta ti fornisce gli strumenti necessari per salvarti dalla censura, dalla sorveglianza e dalla moneta a corso legale. Solo una moneta ha un hardcap di 21 milioni con mixing e privacy post quantistiche sicure. Internet è sovrano, operando su Lightning Network con chat, social media e storefront criptografate senza pubblicità e senza censura. Scambio decentralizzato senza KYC e senza front running. Una governance forte con stagging rewards, il tutto pur essendo interamente autofinanziata, con milioni nei treasury e adattabilità costruiti per durare. Nessun clown del capitale di rischio, nessun ICO losco, nessun socio d'affari e nessuna sciocchezza. La cripto che tira forza è l'unica che conta davvero. Tutto il resto sono stronzate. La rivoluzione non sarà centralizzata. Unisciti a noi. Satoshi è morto. Lunga vita di di credo.